Sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile della questura di Pescara i responsabili della rapina commessa il 6 novembre scorso nel capoluogo adriatico in via Reiale ai danni di un dipendente della Romagna Giochi SRL che aveva in auto quasi 25 mila euro che erano stati raccolti dalle slot machine di alcuni locali di Pescara. Grazie a un lavoro intenso, ragionato, che è partito dall'analisi del filmato che ha ripreso proprio il momento topico quando due malviventi travisati aggrediscono e sottraggono l'incasso al dipendente della ditta videogiochi da lì abbiamo capito che uno e due poteva essere una nostra conoscenza per una serie di perquisizioni immediate che poi grazie anche all'analisi di ulteriori filmati di videosorveglianza e allo studio dei movimenti dei telefoni, dei sospettati e dei tracciati GPS che erano sulle due autovetture che compaiono insomma in questa storia ci ha portato a individuare quattro componenti del gruppo di rapinatori su una rosa che noi riteniamo essere un po' più ampia e su cui stiamo ancora lavorando. Malviventi che hanno lasciato per strada, come si suol dire, almeno 6 mila euro dei 25 mila rapinati? probabilmente disturbati dalla forte presenza della polizia che si è diretta subito sul luogo dove poi è stata rinvenuta la macchina cosiddetta pulita evidentemente spaventati dall'arrivo delle forze di polizia loro hanno ritenuto di abbandonare parte del bottino anche sul manto erboso circostante lì in zona Fontanella. Sono tutti in arresto seppur i provvedimenti sono stati graduati in ragione della incensuratezza di alcuni per cui due soggetti sono agli arresti domiciliari e altri due in carcere. Le indagini proseguono, riteniamo appunto che il gruppo sia più ampio sperando di dare un nome e un volto anche agli altri complici.